Le risorse non sono mai sufficienti. Purtroppo noi abbiamo questa, diciamo così, spada di Damocle del caro energia che drena la gran parte delle nostre risorse. Gli interventi per calmierare le bollette per le imprese, per le famiglie, ci costano circa 5 miliardi di euro al mese. E se non interverrà, adesso stiamo ovviamente studiando le proposte che sono arrivate, se non interverrà la Commissione europea sarà ovviamente difficile, senza una misura di carattere europea, continuare a far fronte a questi costi che ovviamente ci trenano risorse su molti altri fronti. Come i primi provvedimenti che noi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri, penso alla manovra di bilancio, penso al decreto a CISE, abbiamo scelto di intervenire con misure concrete. Ovviamente le risorse non saranno mai sufficienti, soprattutto in una fase come questa, ma io penso che alcuni segnali siano in ogni caso molto importanti. Come ovviamente lo è per le famiglie e le imprese e anche per i comuni, per esempio, una delle emergenze fondamentali da affrontare è quella del caro energia. Noi abbiamo per questo deciso di destinare a comuni, province e città metropolitane complessivamente su questa materia circa 530 milioni di euro. Oltre il caro energia, una serie di altri interventi, abbiamo aumentato il fondo di solidarietà comunale che serve a compensare le minori entrate dei comuni per effetto delle riduzioni dell'Imu e della Tasi per aiutare soprattutto la spesa e servizi sociali comunali, diventa strutturale a regime e quindi non più una tantum il contributo di 110 milioni a favore dei comuni a titolo di ristoro per il minor gettito Tasi. Abbiamo aumentato complessivamente di 250 milioni in tre anni le risorse destinate agli enti locali per le spese di progettazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio e rischio idrogeologico, messa in sicurezza e efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici, del patrimonio comunale, la messa in sicurezza delle strade e poi il trasporto pubblico locale. Grande questione, qui davvero le risorse non bastano mai, però abbiamo anche qui tentato di dare un segnale importante destinando complessivamente 420 milioni di euro.